Dopo essersi scontrato con uno scooter, si è allontanato senza prestare soccorso al motociclista, poi morto in ospedale, ma l'automobilista è stato rintracciato dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio in via Monte Cervialto, sul posto gli agenti del terzo gruppo nomentano, coinvolti uno scooter e un'auto che dopo lo scontro si è allontanata senza prestare soccorso, il motociclista 51enne impiegato in un supermercato della zona è stato trasportato al Policlinico Umberto I, dove poi è deceduto gli agenti acquisiti alcuni frammenti di testimonianze, si sono messi sulle tracce dell'altro mezzo coinvolto e rintracciato il conducente. Si tratta di un italiano di 49 anni al momento indagato per omicidio stradale e denunciato per fuga e omissione di soccorso. Sono in corso indagini per risalire all'esatta dinamica dell'incidente.